Non badate al mio aspetto, non sono qui per mostrarvi la mia bellezza Benvenuti sul mio canale dove ripercorriamo la biografia dei personaggi più discussi del momento Io sono Filippo e oggi vi racconterò della più famosa influencer e imprenditrice digitale italiana Chiara Ferragni Ma chi è Chiara Ferragni? Come è diventata Chiara Ferragni? Queste sono le domande a cui oggi cercheremo di dare una risposta Ci riusciremo? Probabilmente no Questo ci fermerà? Assolutamente no Vi dico sin da subito che non arriveremo al Pandorogate, alla probabile rottura con Fedez, all'intervista da Fazio, alla copertina dell'Espresso, alle foto dei bambini ripresi di spalle E perché mai direte voi? Semplice perché Iris Babilonia ne ha già parlato o ne sta comunque ne sta facendo una saga, la Chiara Ferragni saga Quindi qual è l'intento di questo video? Chi ha già visto la saga troverà qui il prequel o il prequel o il prima degli scandali Chi invece non ha ancora visto la saga finendo di vedere questo video potrà continuare la storia di Chiara Ferragni andando nel canale di Iris a vedere appunto la Chiara Ferragni saga Premessa finita, possiamo cominciare Quindi mettetevi comodi per ascoltare la vera storia di Chiara Ferragni in arte Chiara Ferragni Secondo me se dico un'altra volta Chiara Ferragni appare Modella, influencer, imprenditrice digitale, pioniera di Instagram con milioni di follower ossessionati da come si veste ogni giorno O per meglio dire dal suo outfit Come lo preferisce l'outfit? Con ghiaccio Che non tutti sanno che cosa vuol dire A Cremona, in questa città industrializzata del nord Italia, vicino Milano Un ragazzo di nome Marco Ferragni fa il dentista E una ragazza di origini siciliane di nome Marina Di Guardo Fa la vice direttrice in un negozio di abbigliamenti E ha in progetto di realizzare il suo sogno di fare la scrittrice Marina come già detto ha origini siciliane E ha avuto una infanzia difficile e un'adolescenza ancora più difficile Perché praticamente suo padre ai figli maschi permette ogni libertà E alle figlie femmine permette solo di stare a casa Marina praticamente più cresce più non vedrà l'ora di scappare E all'ultimo anno di liceo non resiste più Abbandona gli studi e va via di casa trasferendosi a Cremona Suo padre non la prende bene e utilizza il cliché del Se lasci questa casa per me sei morta Per fortuna Marina è già una donna forte E quindi gli dice condoglianze pronta per rinascere da donna libera Arrivata a Cremona Marina si mette a fare qualsiasi lavoro Dalla babysitter all'animatrice Dall'indossatrice alla dimostratrice di prodotti Non sappiamo quando dove e come Marina e Marco si conoscono e si innamorano Ma sappiamo che dal loro amore Il 7 maggio 1987 nasce la loro prima bambina Chiara Dai quei capelli rossicci Quegli occhi azzurri E quelle guanciotte rosa fanno pensare a Marco e Marina Che si è venuta così bene da farne un'altra E dopo due anni nel 1989 Nasce Francesca Praticamente identica a Chiara E dopo altri due anni Quindi nel 1992 Nasce Valentina Al terzo clone decidono di fermarsi No a parte gli scherzi Se avete visto il film In Time Perché a me hanno ricordato la scena del film In cui il miliardario dice Ti presento mia moglie, mia madre e mia figlia E hanno tipo tutta la stessa età Le tre sorelle, noi e la mamma Si tipo sembrano coetane Comunque torniamo a noi L'infanzia di Chiara è un'infanzia felice E sin da piccolina Marina trasmette a Chiara la passione per la fotografia Chiara da piccola è super fotografata E le fotografie hanno anche un valore d'archivio Sono strettamente legate al ricordo e alla condivisione Ma di cos'è la fotografia per Chiara? Ne parleremo più avanti Per ora prendiamo questa informazione Giusto per sapere che è cresciuta Come se da grande dovesse far vedere come era da piccola Tutte le foto e i video di Chiara bambina Così come di Francesca e di Valentina ovviamente Marina le conserva in archivi ordinati Che se fosse una puntata di Black Mirror Potrebbe suonare inquietante Ma in questo caso è solo un hobby molto costoso Dato il periodo Dato che esistono solo il rullino E le rullini fotografici e videocassette Per Marina questo archivio è come la memoria di un passato Dove poter tornare ogni volta che si vuole C'è un altro aspetto dell'infanzia Di Chiara determinante da considerare Per capire meglio come è cresciuta E cioè i complimenti e le energie positive Che sua madre pare le abbia trasmesso per tutta l'infanzia Marina l'ha sempre incoraggiata e motivata La riempita di una considerazione di sé talmente grande Da poterci sfamare milioni di follower insicuri Su come abbinare maglie e pantalone Non perde mai occasione per ricordarle Quanto sia brava, bella, intelligente E che nella vita potrà realizzare qualunque ambizione Insomma avete capito Marina è riuscita a rendere Chiara Una persona molto molto sicura di sé Ma andiamo per ordine Arriviamo così al 2002 Quando Marco e Marina decidono di lasciarsi Di comune accordo Non sappiamo perché Sappiamo solo che nel 2002 Le loro strade si dividono Rimanendo però entrambi molto vicini Ai figli Chiara si iscrive al liceo classico Manin di Cremona Ogni giorno va a scuola in bicicletta Perché non è molto lontana da casa E si impegna il giusto Non eccelle in nessuna materia Alla media del sette E con questa riesce a non farsi mai bocciare I professori ricordano Chiara Come una ragazza ambigua Difficile da incasellare Perché alcuni professori Apprezzano e premiano Il suo mettere tutto in discussione Percependola come una persona creativa E altri invece non sopportano Proprio questo suo scetticismo Questo suo mettere tutto in discussione Perché sospettano Che sia solo un modo Per portarsi il voto a casa Studiando pochissimo Chiara in questo periodo Va a vivere in centro a Cremona Con suo padre E si appassiona al basket Sport che suo padre Pratica regolarmente Scusi ma lei gioca Gioca anche a basket Sono Chiara Ferragni Vedo un po' lei Arriviamo così a quando Chiara Ha 16 anni Il rapporto con le compagne di classe E più in generale Di scuola Non è dei migliori Per via di antipatie Forse invidie Chiara come spesso Accade a scuola Viene presa di mira Da Da un gruppo antagonista No c'è sempre un gruppetto Antagonista in ogni scuola Sono Emo E Truzzi Fighetti E Street Food Questa situazione di plismo La porta a selezionare Pochi Pochissimi amici Chiara si circonda quindi Di persone che condividono I suoi stessi interessi I suoi stessi interessi I gusti estetici I suoi stessi hobby Rido perché non riesci Vuol dire I stessi interessi Ma torniamo a scuola Chiara ha 16 anni Viene interrogata E non ricorda assolutamente Niente Di conseguenza Fa scena muta Che dire È capitato a tutti Tranne a te A te che stai pensando Io non ho mai fatto scena muta Io l'ho fatta sicuro Alcuni suoi compagni Ridono fragorosamente E la prendono in giro Chiara ci rimane malissimo Ovviamente E che cosa fa Non appena torna a casa Li chiama al telefono A tutti Uno per uno Facendo a tutti La stessa domanda Perché ti sei comportato In quel modo E loro rispondono tutti Alla stessa maniera Dicendole Che anche lei Si sarebbe comportata così Se fosse stata Al loro posto Queste telefonate Non sono state inutili Infatti i suoi compagni Hanno cambiato atteggiamento Nei suoi confronti Forse per questa Empatia Che è riuscita a creare Una sera del 2005 Chiara Che a questo punto Ha 17 anni Esce con il suo migliore amico Filippo Fiora Che gli presenta Un suo amico Alberto Lupichini Anche lui 17enne Però di un'altra scuola Alberto infatti Frequenta L'istituto aeronautico Chiara e Alberto Si conoscono E si innamorano Sono molto giovani E fanno un sacco di cose Insieme per la prima volta Su internet Il loro nickname Sono Albertino DJ Per lui E Diavoletta 87 Lei Alberto è appassionato Di informatica E crea per Chiara Un sito di quelli gratuiti Su Walter Vista E una pagina Sulla piattaforma Bloggers Dove Chiara Inizia a raccontare Le sue giornate Cosa le piace Cosa non le piace E poco altro La loro relazione Dura gli ultimi due anni Di liceo Poco dopo il diploma Infatti Alberto Organizza un viaggio Per Santo Domingo In cui Andò anche Chiara E due giorni prima Della partenza Di ritorno per Milano Si sono lasciati O come racconta Alberto Lei ha detto Non ti amo più E lui ha accettato La fine della loro relazione Senza alcuna obiezione Ma facciamo un passo indietro E torniamo al giorno Della maturità Chiara porta una tesina Sui cimiteri E non solo sui cimiteri Ma pure scritta in inglese E come mai una tesina Sui cimiteri Ma soprattutto Perché scritta in inglese In concomitanza Alla maturità Dovete sapere Che l'è venuta A mancare Sua nonna E Chiara A scuola In quel periodo Sta studiando Le leggi Scritte in un cimitero Di campagna Delle poeta Thomas Gray Decide per questo motivo Che la sua tesina Deve essere sui cimiteri E per rendere Il tutto più professionale Va al cimitero Con la macchina fotografica Per fare qualche fotografia Da legare alla tesina Abbastanza inquietante Ma non finisce qui Pare infatti Che il custode del cimitero L'abbia più volte Rimproverata Perché serve Un permesso Per fotografare Dentro un cimitero Permesso che Chiara Ovviamente non ha A questo punto C'era una battuta Sull'aver fotografato La nonna morta Al cimitero Che mi sono Risparmiato Perché Non mi sembra il caso Di fare Humor Su questa cosa E perché in inglese Chiara l'ha scritta in inglese Perché è particolarmente brava E quindi perché no Banalmente L'esame va abbastanza bene E nel 2008 Chiara Ferragni Si diploma Allo liceo classico Con il voto di 78 In questo periodo Chiara utilizza per lo più Netlog E un altro social Che è molto in voga In Lombardia Dal nome 2.0 Dove fondamentalmente Ci si conosce Ci si incontra Il sabato Pomeriggio Così per Stare con Coetanei Chiara usa questi social Come moltissime ragazze Per condividere Fototruzze Ironiche O sensuali Niente di straordinario Insomma Un nickname Comunissimo E contenuti Altrettanto Comunissimi Quindi cosa ha reso Chiara seguitissima Sin da subito Non l'ha capito nessuno Lo volete sapere da me Lo scopriremo Più avanti Eravamo arrivati al diploma Quindi facciamo un passo indietro Perché già nel 2006 La fama di Chiara Tra i social Tra i suoi coetanei Su 2.0 È notevole Chi usa questo social Già la riconosce per strada E qualcuno addirittura Le chiede Una foto insieme Ma cos'è 2.0? Prendiamoci due minuti Per raccontare questo social Che a quanto pare Avrebbe potuto anticipare Facebook Facciamo un po' di contesto Siamo nel 2004 Per rendere l'idea Di quanto siamo Andati nel passato Sappiate che Il 2004 Il primo iPhone 3GS È uscito nel 2009 Quindi siamo praticamente 5 anni prima Del primo iPhone Quando la tecnologia Più Tecnologica È il lettore cd Tipo Ma torniamo a noi Siamo a Milano Tra la fine del 2003 E l'inizio del 2004 Tra i giovani di Laga Il fenomeno di MSN Di MySpace E due ragazzi Di nome Andrea Turate E Martino Di Filippo Frequentano ancora il liceo E quando possono Vanno alla MedeoD Un negozio di abbigliamento Di Milano Che esiste ancora oggi E che ha realizzato Una chat Per i suoi clienti Questa chat È utilizzata Da un centinaio di ragazzi Che si incontrano Il sabato pomeriggio Andrea e Martino In pretà All'ormone Esattamente come I ragazzi Che dall'altra parte del mondo Stanno realizzando Facebook Si ritrovano ad avere Chattato con qualcuno Senza però Averla mai vista in faccia Con la conseguenza Che il sabato pomeriggio Magari escono Vanno nello stesso posto Ma non si riconoscono Con questa persona Con la quale hanno messaggiato Perché? Perché non si sono mai visti in faccia Ovviamente il computer L'hanno lasciato a casa Perché in tasca Ancora Non ci entra E quindi niente Rimangano all'asciutto Necessità fa virtù E quindi hanno un'idea Realizzare una chat Identica a quella Del locale Con la possibilità Di aggiungere Al proprio profilo Al proprio nome Una foto Così da poter vedere Con chi si sta chattando E poterla riconoscere Il sabato pomeriggio C'è solo un problema Il sito lo chiamano Amedeo D2.0 Così da indicizzarlo facile Ma al proprietario Del locale Questa idea Non piace per niente Non vuole che Sembri Che il suo negozio Abbia un sito Di appuntamenti Per giovani Adolescenti Infocati E tramite avvocato Fa sapere Giovani programmatori Che devono subito Cambiare nome Alla piattaforma Perché non la vuole Associata al suo locale Ovviamente I due compari Gli cambiano subito nome Togliendo la parte iniziale Amedeo D E lasciano soltanto 2.0 E' incredibile Come questi ragazzi Abbiano anticipato Facebook E Instagram Fondamentalmente 2.0 Si differenzia Solo per un dettaglio Su Facebook Devi accettare l'amicizia Su 2.0 Invece funziona Come Instagram Gli utenti possono Seguirti Senza che tu debba Necessariamente Dover accettare L'amicizia Infatti su 2.0 Tutto e tutti Hanno pagine pubbliche Commenti pubblici E tutto pubblico I programmatori Questi due ragazzi I programmatori Di 2.0 Non hanno però Pensato a un algoritmo Per mettere In primo piano Le persone Presenti all'interno Del sito E questa piccola Mancanza Alla quale Nessuno Ha dato importanza Fa sì Che diventino Sempre più popolari I già popolari All'interno del sito Perché il sito Mostra per primi Solo i più seguiti Quindi Quindi Dato che Chiara Ferragni È riuscita a essere Molto seguita Ci è rimasta La più popolare È ad essere La più seguita Ovviamente il sito Ha delle limitazioni Tipo permette di pubblicare Fino a 24 foto E per ogni foto in più Se ne deve cancellare una È molto rudimentale Le foto ad esempio Devono essere inviate Via mail E pubblicate manualmente Da un programmatore Insomma Poco importa Fatto sa che 2.0 in tre anni Arriva ad avere 66 milioni Di visite È una potenziale Miniera d'oro C'è gente che si è Arricchita con molto meno I due ragazzi Che gestiscono Il sito Però non sanno Che fare Non sanno come Gestire Questa piattaforma Una società addirittura Gli propone Mezzo milione di euro Per remettere Un banner pubblicitario Per un anno All'interno del sito E loro rifiutano Un'altra addirittura Cerca di comprarlo Questo sito E loro si rifiutano Insomma I due compari Nel 2009 Si mettono In società Con degli organizzatori Di serate a Milano Praticamente con dei PR Riscrivono il codice Di 2.0 Da capo Per aggiornarlo E non si sa perché Non si sa per come Tutto il codice Sia del vecchio sito Che di quello nuovo Viene cancellato Dicono per sbaglio Si dice per sbaglio Puff 2.0 E' stato buttato Nel nulla Di un cestino virtuale Non è stato mai rivelato Nulla più di questo E perché direte voi Non hanno riscritto Da capo Il codice Pare che si siano Demoralizzati E che abbiano pensato Di non averlo mai fatto Per soldi E quindi si sono convinti Che non ne volesse la pena Ma comunque Mentre i loro soldi Fanno schifo C'è una giovane utente Che pensa di non volere Perdere la popolarità Ottenuta su 2.0 Chiara Ferragni Infatti Passa su netlog Continua a scrivere Sul suo diario online Insomma Attira un sacco Di pubblico Chiara sul blog Si racconta Parla d'amore E di amicizie Ma soprattutto E' riconoscibile Per il suo modo Di scrivere Con la k Al posto della c Una libertà d'autore Che può piacere O meno Poco importa Anche perché In quegli anni Diciamo Si abbrevia tutto Sicuramente L'avete fatto Anche voi In quegli anni Se Usavate Gli sms Che si pagavano Entro un tot Di lettere E quindi Tutti ci sforzavamo Di scrivere Tipo Frasi più brevi Di un tweet C6 Si scriveva La c E il numero 6 Perché non rispondi Era X Con O cose del genere Adesso vi leggo Alcuni testi Tratti dal diario Online Di Chiara Del 2006 Per conoscerla meglio Ovviamente Oggi sono decontestualizzati Al periodo E penso che Tutti da adolescemi Abbiamo scritto cose Che oggi Sarebbero imbarazzanti Quindi Prendiamo queste pagine Di Chiara Per quello che sono Come uno spioncino Dal quale possiamo dare Una sbirciata Nel suo passato Vi leggo una pagina Del blog Le foto sono una delle cose Più magiche Che esistano Secondo me Riescono a catturare Un'immagine Un momento Un luogo Una persona Che non vorresti mai scordare Riguardandole Riesco sempre a provare Le emozioni Di quando sono state scattate E con la mente È come se tornassi In quel luogo E allora mi perdo Quando sono in giro Con i miei amici Con la mia famiglia Con il mio ragazzo Ogni occasione è buona Per posare per una foto Spesso quando ormai Tutti si sono stufati Di continuare a scattare Me le faccio io da sola Facendo boccacce E facce strane Io sono patita Ho miliardi di foto Di ogni occasione E quando non so cosa fare O mi sento malinconica Passo interi pomeriggi A riguardarle Sono riuscito A leggere Con tutte quelle k Quindi Alla fine Appena ci prendi la mano È tipo Comunque leggibile Abbastanza leggibile Come quei testi strani Dove Uno diventa la I No E dopo un poco ti abitui E riesci a leggerlo Quindi per chiara le foto Sono l'impressione Di un momento Sono alla ricerca Del bello Con richiami All'arte contemporanea Che in quel periodo È sostanzialmente Un provocatorio Seminudo Innocente Con allusioni Di complicità Immagini Sbarazzine Di un'estetica Brevi espressioni Di una giovinezza fugace Vi state appassionando Allora leggiamone un'altra Leggiamo un'altra pagina Del blog Non ho immensi sogni Per il mio futuro Ma ho alcuni desideri Che voglio davvero realizzare Voglio essere diversa Ed unica Nel mio genere Voglio nuotare Dalla parte opposta Della corrente Voglio dare libero sfogo Alla mia mente Non voglio avere Alcun limite Voglio poter Gridare Quanto amo la vita Quando mi sento felice Ed urlare A tutti il mio dolore Quando sono triste Voglio sentirmi libera Libera da ogni schema Da ogni impostazione Voglio poter volare Come una piuma nel vento Voglio poter correre Senza una meta Voglio sorridere Ed ancora sorridere Anche se non esiste Un motivo particolare Voglio distinguermi sempre Perché mi sento Diversa interiormente Voglio essere una persona Vera Con tutti i miei difetti Ma comunque Vera Notiamo che Chiara Non sappia cosa Come O perché Ma sa Che vuole essere Libera Diversa Unica Senza limiti E soprattutto Vera Con tutti i suoi difetti Che non sappiamo quali siano Fatichiamo a capire Quali siano A parte i gravi errori grammaticali Leggiamo l'ultima Così ci addolciamo un pochino Prima di continuare Perché sono In questa pagina Del blog Sono da poco passate Le feste natalizie E Chiara racconta Come sono andate le vacanze Sul suo diario Online Sul suo blog Il natale è una delle feste Che odio di più Io non ho un minimo Di spirito natalizio Ogni anno Sempre la stessa storia Festeggiare la nascita Di Gesù Che poi ormai tutti sanno Che Gesù Non è nato Quel 25 dicembre Ma che è una data Di convenzione Tralasciando tutte le schifezze Che girano attorno al natale Ciò che ogni anno Mi rattristisce È la famiglia Che si riunisce Per cene Pranzi Regali Arriviamo così Al quarto anno Di superiori Quando grazie A un progetto scolastico Chiara ottiene La possibilità Di passare Un anno di studi Negli Stati Uniti In Arizona Accetta Parte E dopo qualche mese Torna a Cremona Perché pare Non essersi trovata bene Con la famiglia Che l'ha ospitata Di questa storia Conosciamo solo La versione di Chiara Che è questa Praticamente Questa famiglia Che la ospita Ha una figlia Qualche anno Più grande di Chiara E quando Questa ragazza Ha fatto conoscere Chiara La ragazza italiana Ai suoi amici americani Loro si sono mostrati Più interessati A Chiara Che a questa Ragazza americana Che la ospitava E quindi Sono iniziati Liti Una lita Tira l'altra La situazione È degenerata E quindi Hanno dovuto Allontanare Chiara Da quella casa Da quella famiglia Loro hanno chiesto Appunto Di farla Trasferire Presso un'altra Abitazione E Chiara è stata Affidata A una coppia Di anziani Per questo motivo Poco dopo Ha deciso Di tornare A Cremona Per molti di noi Questa esperienza In America Sarebbe stata Devastante Un fallimento Una delusione Una vergogna Con la quale Dover fare i conti Per non parlare Di quanto ci si possa Sentire demoralizzati Per Chiara invece Queste sono parole Vuote Chiara ha una Determinazione Una percezione Di sé Fuori dal comune E quindi Lei torna a Cremona Più forte di prima Arriva il diploma Come già detto Con Albertino Si lasciano E Chiara si iscrive All'università Ovviamente Una delle università Più prestigiose D'Italia La Bocconi Di Milano La 19enne Chiara Matricola universitaria Si trasferisce A Milano Con il suo Compagno di liceo Con il suo migliore amico Filippo Fiora Con cui condivide L'appartamento E le spese D'affitto All'università Chiara fa amicizia Con Veronica Ferraro Anche lei Molto seguita Su 2.0 Non sappiamo Se la loro amicizia Si è iniziata Ai tempi di 2.0 O dall'università Quello che sappiamo È che Ne sono state rilasciate Entrambe le versioni Durante due interviste Questa è per Il post E questa è per Il Pledge Time Che Non so quanto sia Attendibile Ma è comunque Abbastanza strano Che esistano due versioni Diverse Di come si siano conosciute Quindi facciamo così Si conoscevano magari Già di vista Ai tempi di 2.0 Ma la loro amicizia È nata all'università Prima un accessorio O prima il look No Prima Dipende dai giorni Ci sono giorni in cui Già io Punto molto più Gli accessori Rispetto ai vari vestiti Perché vestiti Compro spesso low cost In catene Poi Zara Chem Topshop Così Mentre gli accessori Cerco sempre magari Di utilizzare O su accessori vintage Quindi magari Che abbiano la particolarità Di essere Meno Cioè Più introvati In giro E oppure Comunque Sono accessori Magari un po' più costosi Visto che vengono usati Molte volte Quindi dipende Proprio dai giorni Però gli accessori Sono sicuramente Importanti Per i miei look Io cerco di Sarei gli accessori Per il prezzo Di un po' E' 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 un po' Natural Chiara Acquisito Investimento 10 euro Per il dominio Perché La macchina fotografica Già ce l'hanno Le foto Già se le fanno I pensieri Da raccontare Sul blog Li scrive lo stesso Quindi fa Fanno un blog Tutto loro E qual è la particolarità Di questo blog Di questa incredibile Idea geniale Di business Che ha reso Diavoletta 87 Chiara Ferragni Cole che nell'immaginario Collettivo Ha creato il mestiere Dell'influencer Nessuno Mi dispiace Lo so Che può far male Ma è così Mi piacerebbe potervi Romanzare la sua storia Con incredibili deduzioni Imprenditoriali O aneddoti Di caparbietà Ma la sua è stata Spregiudicata Fortuna Ma a questo ci arriveremo Con calma Per adesso Accontentiamoci di raccontare L'apertura del blog The Blonde Salad Praticamente si tratta Di un blog Senza un argomento Di interesse specifico Se non La bionda Chiara L'insalata Di questa bionda Chiara Trasformata in una specie Di Barbie Dentro appunto Quest'insalata Delle cose che fa Delle cose che pensa Che dice Dei posti in cui va Dei vestiti che indossa Questa vaghezza Riportata Al racconto Della sua quotidianità In una specie Di Truman Show Online Piace Non chiediamoci Perché piace Piace come Il grande fratello Come c'è posta per te Come sentire le voci Delle liti Dei vicini Senza dover Origliare Insomma nel bel mezzo Del boom Dei blog Personali In cui chiunque Ha qualcosa di Interessante Da condividere Si trova una nicchia Di interesse Vi faccio qualche esempio Così chi non ha vissuto Internet In quegli anni In quel periodo Capisce meglio Quello che voglio dire Aprire un blog Era facilissimo Come oggi E con molta probabilità Si trovavano un sacco Di persone interessate A leggere O a chiedere consigli All'interno del blog Ecco perché un blog Aveva un'area Di interesse Specifica Vi faccio un esempio Io ho un carlino E so tutto Sui carlini E allora apro un blog Dal titolo Insalata di carlino E migliaia di cinesi Mi chiedono la ricerca E quindi le persone Che hanno Che vogliono avere un carlino Cercano su google Per esempio Il carlino russa E al 99% Gli spunta Il mio blog Lo seguono Perché scoprono Informazioni utili E sanno che Qualora Ne avessero bisogno Possono chiedere consigli E basta Cioè è tutto qui Io che lo gestisco Che gestisco questo blog Non ci guadagno Un centesimo Se non la gloria Di avere questo blog Ovviamente Pubblicizzando Una linea di crocchette Prodotti per la cura L'igiene L'igiene del carlino Eccetera eccetera Posso guadagnare Dal blog Ma resta comunque Il fatto Che nessuno In quel periodo Sospetta Che un blog Possa diventare Un lavoro Molto remunerativo In quel periodo Al contrario È percepito Avere un blog Gestire un blog Come una potenziale Perdita di tempo Oggi Data la quantità Enorme di contenuti Il blog Non serve più a nessuno Tornando all'esempio Del carlino Oggi potete trovare Qualsiasi informazione Senza necessariamente Cercare un blog Ma nella seconda metà Degli anni 2000 Clio Makeup Giallo Zafferano Stanza Selvaggia Aranzulla E molti Moltissimi altri Blogger Si sono ritrovati Con un pubblico Enorme E hanno saputo Renderlo Un business Persino tutti Gli amici di Chiara Aprono un blog Identico A The Blonde Salad Veronica Ferraro Lo chiama The Fashion Fruit E indovinate Di che cosa parla Filippo Fiora Apre The 3F Filippo Fiora Fashionist E indovinate Di che cosa parla Tutti di moda Quanto meno all'inizio Poi si sono creati Una loro nicchia Veronica nel fitness Filippo nel lifestyle Ma comunque sia Tutti hanno iniziato Da un blog Purtroppo i loro blog Oggi non sono più disponibili Nella versione di 16 anni fa Ma non importa Tanto quello che voglio dire È che in quel periodo Non è una cosa rara Aprire un blog Ed avere migliaia di persone Che lo seguono Torniamo a Riccardo La relazione con Chiara È stabile Sono innamoratissimi Fino a quando Nelle loro vite Non arriva Un'altra donna Tenetevi Perché questa probabilmente Non la sa nessuno Rebecca Chi è Rebecca? Rebecca è Chiara Ferragni Come non l'avete mai vista? Direte voi Un'intellettuale Colta appassionata Di arte Moda No Sto scherzando È solo Chiara Con i capelli neri In questo periodo Con Riccardo Fanno i blogger Di viaggio Infatti partono spesso Condividendo i bei luoghi E la bella vita Con il loro pubblico Certe volte Il viaggio è pagato Da uno sponsor Altre no Insomma In questo turbinio Di bellezza Viaggi Moda Divertimenti È lusso Vanno a Chicago In Sicilia In Toscana Insomma Chiara è innamoratissima Di Riccardo C'è un video Che adesso vi faccio vedere In cui Chiara Mostra questo affetto Spontaneo Pulito Quasi adolescenziale Se vogliamo Che Mi ha colpito molto Perché Non l'avevo mai vista Comportarsi così Prima Di questo video Ma Potrei sbagliarmi Andiamo per ordine The Blonde Salad Diventa anche Un canale YouTube E il successo In generale Di Chiara Ferragni È tale Che nel giro Di un anno Siamo quindi Nel 2010 Chiara è talmente Popolare Da lanciare Come si dice Lanciare Una linea di scarpe Col marchio Chiara Ferragni È qui che viene mostrato Per la prima volta Il logo Dell'occhio stilizzato Di Chiara No? Quello Che conosciamo tutti Queste scarpe Sono una collezione Limitata però A tema Wonder Woman Hanno Il logo Bene in mostra E fanno L'occhiolino Le scarpe invece Indossate da Chiara Per la presentazione Hanno solo Le sue iniziali Nel 2011 Chiara Ferragni Viene eletta Da Teen Vogue Come blogger Del momento Perché il sito The Blonde Salad Ha raggiunto Le 12 milioni Di visite mensili Nel 2013 Chiara registra Il brand Col suo nome Ed è così Che inizia L'era Di Chiara Ferragni Collection A metà Tra una casa Di moda E il merchandising Di un qualsiasi Cantante O youtuber Infatti Il suo logo Con l'occhiolino Viene stampato Su magliette Cover per cellulari Zainetti Costumi da bagno Insomma Il brand piace molto Secondo me Non tanto per il brand Ma perché Conosciamo Chiara A differenza di Dior Gucci Prada E molte altre Griff Chiara è tipo L'amica che vedi ogni giorno E che ti fa piacere Ciò che vende Come oggi ad esempio Martina Straser O New Martina Compriamo secondo me Gioielli e cover Da loro Ad esempio Perché ci piacciono loro E non per il prodotto In senso assoluto Potrei sbagliarmi Non ho fatto un'analisi Del mercato Una statistica Non ho fatto un sondaggio Però Secondo me Dico Si capisce che È così Ovviamente però Diamo a Chiara Quel che dichiara Dire che ha Avuto successo Solo grazie al blog È riduttivo Infatti dovete sapere Che Chiara è dappertutto Passa da Milano a Parigi Da New York A Los Angeles Praticamente non dorme Due notti consecutive Nella stessa città Pur di essere Qualsiasi evento E postare contenuti Che possano renderla Sempre più Una icona di stile Di moda E di bellezza Nel 2014 The Blonde Salad Non Chiara Ferragni Brand Lancia una linea di scarpe In collaborazione Con Steve Madden Uno stilista New Yorkese E questa linea di scarpe Viene presentata A New York In grande stile Con sfilata Cartelloni E insomma In grande stile New Yorkese Ma perché la collaborazione Con Steve Madden Cioè con uno stilista Imprenditore Che ha dato il suo nome Ai suoi capi d'abbigliamento Esattamente come fa Chiara Ferragni Ha fatto una collaborazione Con il marchio The Blonde Salad E non con quello Chiara Ferragni Non lo sappiamo Quello che sappiamo È che Poco dopo I due Si lasciano Ma mettere un punto Alla loro storia d'amore Però non gli impedisce Di continuare La relazione lavorativa Continuano infatti A essere entrambi i soci Di The Blonde Salad E a curare Gli interessi economici Della società Nel 2014 Chiara torna single È proprio il tempo Che ve lo sto dicendo Infatti Si fidanza subito Con Andrew Arthur Un fotografo di moda Di Los Angeles Chiara compra casa A Los Angeles Anche se È sempre in giro Per il mondo E fa starie scendì Dall'Italia per lavoro Perché anche se Ha un pubblico internazionale In Italia C'è la fetta Di pubblico maggiore Con Andrew La relazione Dura circa un anno Perché con Chiara Non vanno d'accordo Ma non lo lascia subito Perché giusto giusto Viene invitata Per la prima volta Da Kelvin Klein Al Met Gala È la prima volta Che partecipa Ad un evento così importante Ed è un traguardo Più importante Di lasciare subito Andrew Quindi resiste Ancora qualche settimana Ma subito dopo Il Met Gala Con Andrew Si lasciano Il 2015 Si conclude Con Chiara Ferragni Single Questa volta però Ci rimane un po' di più Viaggia Va a Cuba Con le amiche Durante questo periodo Da single Impara l'importanza Di saper stare da soli Sempre nel 2015 La rivista Forbes Inserisce Chiara Nella lista Delle 30 personalità Sotto i 30 anni Che hanno apportato Una rivoluzione Nel campo della moda E della comunicazione E tenetevi forte All'università di Harvard Una delle università Più prestigiose al mondo Chiara Ferragni Diventa un caso di studio E tiene una lezione Sull'influencer marketing È Riccardo che si occupa Di organizzare il progetto Perché come ho detto prima Anche se si sono lasciati Riccardo lavora Ancora per la società Che hanno fondato insieme The Blonde Salad Arriviamo così al 2016 Chiara abita ancora Nella sua casa A Los Angeles La sua è una vita divisa Tra l'America e la Fran No quello era Marche Cartagena E povera Prati Chiara è tra l'America E l'Italia Il suo brand Sta andando alla grande La società TBS Crew Ha già 24 dipendenti E gli accessori A marchio Chiara Ferragni Vengono distribuiti In 315 punti vendita E così che nel 2016 La The Blonde Salad Raggiunge un fatturato Di 20 milioni di euro Una sera d'estate Chiara è in vacanza in Italia Con le sorelle In filo di fusione Sente cantare Fedez Carino che è Quasi gli scrivo su Instagram I due iniziano a sentirsi Fino al loro segretissimo Primo appuntamento Che li ha fatti innamorare Chiara e Fedez iniziano Una relazione super social Perché anche Fedez È molto popolare A dirla tutta Sul panorama esclusivamente italiano Fuori da Instagram Fedez È addirittura più famoso Di Chiara E quantomeno in quegli anni Insomma che potrebbero essere La coppia perfetta Lo pensano in tantissimi Al punto che Si è creata una miscela Dei due nomi Per indicare la coppia I Ferragni Nel 2017 Chiara torna ad Harvard Per la seconda volta Dopo la lezione Su come diventare Influencer di successo Si fotografa insieme alla classe Mentre tiene una bambola Barbie In mano Che è tipo Racchiude il simbolo Del blonde salad Nel 2017 Chiara assume Nel ruolo di General manager Fabio Maria D'Amato Che dopo la laurea In economia Alla Bocconi E aver lavorato Nell'editoria Per il Corriere della Sera Diventa In poco tempo Quello che le definisce Il suo braccio destro E anche il sinistro Nel senso che Si prende gran parte Del carico di lavoro Arriviamo al 6 maggio 2017 Quando Fedez Durante un concerto All'arena di Verona Chiama sul palco Chiara Ferragni Si inginocchia E le chiede di sposarlo Citando il testo Di una sua canzone Non servono anelli Per tenerci insieme Ma per quello che sto Per chiederti Si dice Fedez Chiara ovviamente accetta E poco dopo Scopriamo anche Che aspettano un bambino Lo stesso anno Il 26 luglio 2017 Apre a Milano Il primo negozio Chiara Ferragni Seguito dall'apertura Di un punto vendita A Parigi Uno a Shanghai E uno a Hong Kong Il 19 marzo 2018 Nasce il primo figlio Della coppia Leone Lucia Ferragni E il primo settembre Dello stesso anno Del 2018 Chiara Ferragni E Fedez Si sposano Il matrimonio Dei Ferragni E' più seguito Di un matrimonio reale Del matrimonio Di un principe E di una principessa La cerimonia Si svolge Ovviamente In diretta social E fa impazzire Il contatore Di visualizzazioni Tutto Ogni dettaglio Del loro matrimonio E' stato pensato Calcolato E organizzato Nei minimi dettagli Nei minimi particolari Ora avrò un velo Che devi poi sollevare Che vediamo come Lo sollevare Deve sollevare No lo sollevare Un velo Ragazzi Ma è difficile Devi mettere bene Dove si fermano Sì Sì Io devo sollevare il velo Perché c'è una tecnica particolare No Però amore Se non ti rimane qua Ma sai che penso Che ci potrei arrivare Che se ti rimane il velo Vai vai prova E mi devi dire Che sono bellissimo Spontaneo O una cosa sì Ah ok Una cosa spontanea Ti faccio già Comuovere tutti quanti Ma devo chitarlo No non devi dire Ma la gente capirà Che mi ha detto Una cosa dolce Ok Ti senti Ti senti Ti senti Nel 2018 Esce una intervista Fatta a Riccardo Pozzoli Su Millionaire Dal titolo Così Ho inventato Il fenomeno Chiara Ferragni Leggiamo un estratto Di questa intervista Fatta Per Millionaire Com'è nata l'idea Di The Blonde Salad Chiede l'intervistatrice La giornalista Era il 2009 E mi trovavo a Chicago Per il quadrimestre di lavoro Legato ai miei studi di marketing Mi sono reso conto Che in America I blog Facevano tendenza E condizionavano Moltissimo i consumi All'epoca Chiara postava le foto Dei suoi outfit Su varie piattaforme social Ottenendo un grande seguito Così ci è venuta L'idea Di aprire un blog Abbiamo Intravisto Un'occasione Di business Anche se non sapevo Dove ci avrebbe portato Il primo passo È stato Acquistare il dominio Da un provider americano Riccardo Leggendo questa intervista Mi è sembrato Di capire Che non abbia usato La frase Ho inventato il fenomeno Chiara Ferragni Questa intervista però È uscita dopo Una cosa Un fatto Successo Che cosa è successo Mentre Chiara è incinta di leone Viene a sapere Mentre si trova Chiara a Los Angeles Che Riccardo Ha venduto Il 45% Delle sue quote Societarie Per 750 mila euro A Pasquale Morgese E chi è Pasquale Morgese? Produce la linea di scarpe Chiara Ferragni Quindi già In società Con loro Ma Chiara non ci sta E riesce a comprare Anche il 45% Delle quote passate A Pasquale Divenendo fondamentalmente Proprietare al 100% Del capitale sociale Di The Blonde Salad Chiara infatti È amministratrice Delegata Sia di TBS Crew Che di Serendipity Ma vi confesso Che onestamente Non ci ho capito Niente Troppe società Tutte queste società Mi hanno fatto venire La confusione E continuano A venire tuttora Vi faccio un esempio Per capire perché Mi confondono queste cose Chiara ad esempio È proprietaria del 99% Di Sisterhood Di cui lo 0,5% È di sua sorella Valentina Lo 0,5% Di Fabio Maria D'Amato Che poi È diventata Questa Sisterhood È diventata Ferragne Enterprise Con sempre il 99% Di Chiara L'1% Di sua madre Marina Di Guardo E poi c'è E poi c'è un'altra società Ha scritto un impero commerciale Legato alla sua persona Alla sua vita Al punto di essere Divenuto impossibile Distinguere la persona Dal personaggio Il suo brand Negli anni È sempre cresciuto Fino ad arrivare A una valutazione Approssimativa Di 40 milioni Di euro Fino al 2023 Quando Un pandoro È riuscito a mettere In crisi Il suo Impero economico La sua reputazione Ma Come vi dicevo Per il pandoro Per l'uovo di Pasqua Per la bambola Trudi Biscotti Oreo E molto Altro Ancora Vi rimando Alla saga Di Iris Bene Direi che per oggi Possiamo fermarci qui Il mio intento Per questa biografia Era di arrivare Al punto massimo Di fama E popolarità Di Chiara Ferragne E raccontarvi Come appunto Chiara Ferragne Si è diventata Chiara Ferragne E spero di esserci riuscito Il buon proposito Per il nuovo anno Di pubblicare video Più spesso Me lo sto giocando Malissimo Ma non l'ho dimenticato Vi giuro Che ci sto lavorando E dato che l'estate Sta arrivando Se avete bisogno Di magliettine Vi consiglio di andare A dare un'occhiata Su Pampling Ci sono un sacco Di magliette Bellissime Come questa Poi vabbè Tazze Costumi Pigiami Tutto Cappellini Andate a vedere Con il codice biografo Vi scegliete Anche un paio di calze Gratis E sostenete il canale Ci vediamo prestissimo Con una nuova biografia E basta Giuro Basta Non c'è manco contenuto Extra Mi devo levare Mi devo levare Di davanti E devo prepararvi Un'altra biografia Bella Ampressa Ampressa Bella presto V arrangements Non c'è manco contenuto Abbiamo